Avro avuto trent'anni. Trent'anni sono fichissimi. C'ha il fisico dei venti e la capoccia dei trenta. Non è meraviglioso? È un periodo spettacolare perché pensi solo a stare con gli amici e andare in giro a fare danni. Li fai da adulto, non sei più un ragazzo, è bellissimo. Tu hai il tuo amico, la tua certezza, tu sei una certezza per lui. Lui è una certezza per te. Che figata. Non so a quanti di voi è capitato di assistere a quel curioso fenomeno che si chiama l'amico tuo che si innamora. Beh, è uno spettacolo che fa senso. La sera prima stavate lì per strada a fare regolarmente la gara di culi no profit. Tu lo guardi, gli fai hai visto che culo? Lui ti guarda e fa l'unico culo nella vita è incontrare una donna che ti ami veramente. Che cosa cazzo hai detto? Sì, l'unico culo è quello. Per esempio, donatella mia. Chi? Donatella. Tu lo guardi e capisci che l'hai perduto per sempre. Lo sguardo del tuo amico non è più né acceso né spento. Lo sguardo del tuo amico è in stand by. Qualcuno evidentemente questa donatella gliel'ha data stordendolo per venti minuti in maniera sindacale ma effettiva e mentre dormiva in suo potere gli ha dato il pentotal. Ma su una palla gliel'ha fatto perché è diventato un coglione. Non lo si riconosce proprio più. Tu lo guardi, lo guardi e capisci che questo è questo. Non è quello che tu conoscevi. Eh, questa è un'altra cosa. Questa è la nuova generazione di ricoglionimento. non è quello con cui tu andavi a giocare a calcetto. Quello che non si lavava. Quello che non si lavava manco dopo il calcetto, diciamolo. Perché chi gioca a calcetto lo sa. Se hai vinto te c'hai tre minuti per andare a pia per culo quelli che hanno perso. Se ti fai la doccia è finita. Cosa ci sei andato a fare a giocare a pallone? Vabbè, lo guardi adesso e se prova a fargli una domanda che prima sarebbe stata una risposta scontata perché non vieni a casa mia che ci vediamo una vecchia videocassetta di Maradona e Pelè da giovani, eh? Che poi si scopriva che quello che si luogava era Pelè. Lui ti guarda e fa non credo di essere interessato a codesto argomento. Tu lo guardi e pensi che in effetti ultimamente quando viene a giocare a calcetto noti che si mette il profumo prima di andare a giocare, sempre se ci viene, perché forse lui il calcetto a lui non gli interessa. No, tu lo guardi e capisci che te lo sei perduto per sempre. Non viene più a giocare a pallone, non viene più a fare nulla di normale. Capisci che sta facendo l'errore tipico di chi è forse innamorato ma che prima di essere sicuro di essere innamorato comincia ad allontanare di altri rapporti invadenti. Una follia assoluta. Sta facendo un errore gravissimo e trasportato dalla corrente emotiva. E succede così. Questo sta facendo il tuo amico. E il tuo amico preferisce qualcuno a te, quindi dimenticati di avere un amico. Eh sì, dimenticati quelle frasi vostre quando bastava uno sguardo. Andiamo a mangiare una cosa. Era poesia, poesia. Andavate fuori porta da colo esterolo al posto del limoncello un bicchiere di sangue di porco. Adesso se provi a chiedergli o vieni, dai, andiamo a fare un giretto. Non ci vediamo un sacco di tempo, così mi parli di questa, so si chiama, donatella. Ecco, ci sediamo da qualche parte. Non è che dobbiamo mangiare per forza. Poi magari, se ci va, ordiniamo una carbonara. No. Lui ti guarda e fa, no. La carbonara, no. Non posso. Non posso. Non posso, ma è una mia libera scelta. Quindi tu non vieni a mangiare la carbonara con uno che è tuo amico da vent'anni. Dentro la carbonara nel condimento c'è l'uovo. E se non ci fosse, sarebbe la grigia. No, no. Non posso mangiare la carbonara perché c'è la pancetta. Perché? Pretendo che tu me lo dica. Perché? Perché? Perché, donatella mia, lei, tu non vieni a mangiare la carbonara con me perché questa è vegetariana. E lo vieni a dire a me. Guardami. Cosa ho io di vegetariano? Guardami. Non mi interessano le piante. Io prima di andare a dormire sul contorno occhi ci metto il ciauscolo con un po' perugine. Ma sai che mi importa a me? Che cazzo? Questa è vegetariana. Allora, sai che ti dico? Basta. Tu non sei più amico mio. Io non ti voglio più bene. Ti lascio. Tu, l'amico tuo, non lo rivedrai mai più. Più! Beh, più. Più per modo di dire perché ringraziando il Dio, quando c'è una storia d'amore c'è di mezzo una donna. Ogni tanto, che ormai sono quasi tutti omologhi, il tempo è galantuomo. Quindi tu, l'amico tuo, non lo rivedrai mai più fino a che quella, come chiamarla? Mi viene un termine, un elogismo d'annunziano. Quella protozoccola planetaria magna pannocchie, muschio e fieno con in bocca l'erba medica, scusate il neologismo, che di nome fa Donatella, che io stimo come donna, ci tengo a dirlo, non lo lascia. E quando lo lascia, lui viene a bussare da te. Ti bussa, ma tu non gli apri. Te la tiri due minuti, eh? Che cazzo, eh?